Secondo elemento, l'integrazione in aria vasta non può essere un razionamento dei servizi to-cure, deve essere invece un'occasione per mettere in efficienza i servizi, anche se del caso con più risorse, con più uomini, più donne, più medici, più paramedici, sulla base però di un disegno razionale. Terza considerazione, ci sono gli ospedali, hanno la loro centralità, quello di San Benedetto e quello di Ascoli, ma attenzione, la sanità è anche prevenzione e territorio. Il 60% della qualità della nostra vita dipende infatti da servizi che non vengono erogati dai due plessi ospedalieri, ma dai medici di base, da quelli che sono tutti gli interventi che si definiscono come sociosanitari, quindi in questa proposta non può mancare un'attenzione principale e doverosa verso quello che è il punto di debolizia maggiore del nostro sistema. I tagli saranno profondi a livello nazionale, c'è una discussione proprio in corso, si parla di 8 miliardi di euro, tuttavia la riorganizzazione dell'area vasta che rientra in una sorta di riorganizzazione burocratica del lavoro delle amministrazioni sanitarie si deve compiere in tempi abbastanza brevi e il sindaco Gasper ha un po' lamentato l'assenza di un piano sul quale discutere, sul come, il quando. La sua posizione su questo? Ha ragione Giovanni, assolutamente, è dal 2008 che si parla di area vasta, spesso molte incomprensioni e molti indebolimenti del sistema vanno imputati proprio a questi ritardi, a questo scentellinare in maniera sfibrante ipotesi, soluzioni che poi magari non vedono la fine, quindi ha completamente ragione il sindaco di San Benedetto, dobbiamo pretendere che questo percorso, pur nella doverosa attenzione verso quelli che dovranno essere i passaggi, però sia celere perché senza sacrificare il presto per il bene è assolutamente opportuno dare un segnale agli ospedalieri, agli operatori sanitari che stanno paurosamente perdendo la fiducia nel sistema e in se stessi poi in definitiva e questo non c'è modello che tenga quando poi è il medico, l'infermiere a perdere la voglia di fare il proprio lavoro. Ringraziamo il sindaco Castelli, passiamo ora la parola alla...